Bentornati su MyFootballJersey. Continuiamo a vedere le anticipazioni per la prossima stagione. Questa è la seconda maglia del Real Madrid per la stagione ovviamente che deve ancora incominciare in edizione FAN. Alla prossima. Maglia veramente niente male. Il costo lo vedete qui sopra, vi ricordo che include anche le spese di spedizione, quindi molto conveniente per una maglia fatta sicuramente benissimo. Qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, cosa molto importante trovate anche un link per ottenere un coupon di 5 dollari, quindi il costo che vedevate prima diventa ancora più vantaggioso. Ora prima di lasciarvi la parte finale mi raccomando iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Grazie. Grazie.